buongiorno e bentornati al cittadino digitale sapere esattamente cosa mangiamo è fondamentale per la nostra salute non solo per mantenerci in forma ma anche per capire il nostro mangiare bere quotidiano se di qualità o meno non a caso al mondo della cucina e dell'alimentazione sono dedicate davvero tantissime app all'interno degli store di apple e google infatti le applicazioni su smartphone e tablet non ci aiutano più soltanto a ricordare cosa comprare per cena o quale ricetta scegliere ma diventano vere e proprie alleate per dare una mano a mantenerci in forma e mangiare sano scopriamo insieme quali sono quelle più utilizzate dagli utenti la prima app di cui parliamo si chiama edo e consente di sapere cosa stiamo mangiando semplificando le complesse etichette alimentari infatti grazie ad essa occorre semplicemente scannerizzare il codice a barre dei prodotti per avere gli ingredienti presenti e di relativi valori nutrizionali mettendoli in relazione fa bisogni specifici di ogni consumatore ottenuti inserendo età e sesso nel nostro profilo inoltre nella scheda dell'alimento vi sarà riportato anche il contenuto calorico di una porzione il movimento necessario per smaltirlo infine chi soffre di intolleranze o altro potrà richiamare un elenco di cibi consentiti l'app vivino in pochi anni è diventato il riferimento di una comunità di 20 milioni di persone in tutto il mondo che controllano oltre 300 mila etichette al giorno il funzionamento è molto semplice occorre installare l'app quindi registrarsi e scannerizzare l'etichetta della bottiglia di vino di nostro interesse al fine di ottenere tutte le informazioni è possibile anche controllare le recensioni di chi lo ha già bevuto gli eventuali abbinamenti gastronomici i consigli su come deve essere servito piuttosto che le informazioni sulla cantina oltre al codice a barre la ricerca può essere effettuata anche tramite il nome del vino quante volte ci capita per mille motivi di non essere riusciti a fare la spesa e di ritrovarci con il frigorifero oppure la dispensa quasi vuota e senza nessuna idea su cosa cucinare in questo caso può venirci in aiuto un'interessantissima app su ota frigo infatti attraverso un archivio di oltre 10.000 ricette l'applicazione può suggerirci di preparare il piatto più adatto in base a ciò che abbiamo nella dispensa il meccanismo è molto semplice inserire gli ingredienti di cui disponiamo e attendere qualche secondo per vedere apparire decine di ricette in ultimo vi parlo di Nutribies un innovativo sito web che riunisce le figure del nutrizionista dello chef e del corriere a domicilio al fine di preparare per ognuno di noi piatti sani e personalizzati secondo le nostre esigenze ed infine consegnarli a casa nostra per utilizzare il servizio occorre registrarsi sul sito rispondere a qualche domanda sulle nostre abitudini alimentari e scegliere il menù più adatto tra le 60 ricette in produzione una volta definito il menù la cucina prepara i piatti necessari per ogni cliente e li spedisce in tutta italia ogni piatto attraverso una innovativa tecnologia di cucina permette la conservazione a temperatura controllata pensate per ben 30 giorni sperando che questi consigli possano davvero tornarvi utili per migliorare la qualità di quello che mangiamo e beviamo ogni giorno vi ringrazio e auguro a tutti una buonissima giornata